Per me è stata una giornata particolarmente gradevole perché ho ottenuto queste lezioni nell'ambito del Master in Sperimentazioni Cliniche Farmacologiche all'Università del Campus Biomedico qui a Roma e attraverso questa opportunità ho avuto modo di discutere con tanti colleghi giovani di quelle che sono alcune delle terapie più promettenti, in particolare le terapie igieniche. Oggi abbiamo la possibilità di poter trarre beneficio da questi approcci terapeutici perché dietro c'è stato un lavoro formidabile di ricerca preclinica che ha avuto poi la sua traslazione con successo al letto del malato e nessuno di noi si deve mai dimenticare che non esiste un'ottima assistenza se non supportata da un'altrettanto eccellente ricerca. Un paese come l'Italia deve investire in ricerca, le sue università devono investire in ricerca perché questo è il futuro che i nostri giovani meritano.